Buongiorno a tutti e benvenuti al canale di Office of Cards. Lo fanno in tanti e oggi lo faccio anch'io. Vi condivido la mia morning routine, però la versione invernale, perché cambia a seconda del tempo. D'estate vado a correre fuori, d'inverno non lo posso fare perché c'è troppo buio e troppo freddo, devo trovare delle alternative. Allora, partiamo dai principi. I principi sono che ogni giorno ci si allena. Se noi non creiamo spazio per l'allenamento tutti i giorni, anche fosse una cosa da un quarto d'ora, squat, flessioni, a corpo libero, in camera da letto o in sala, qualcosa bisogna fare tutti i giorni, mi raccomando. Allora, la mia morning routine sostanzialmente divide la settimana in due blocchi, giorno feriale, giorno festivo. La mia giornata inizia alle 5.45, più o meno. Suona la sveglia, 5.45, 5.50, io mi alzo, vado in bagno, faccio quello che devo fare. Alle 6 prendo il mio Athletic Greens AG1, che è un, diciamo, integratore multivitaminico con probiotici, prebiotici, vitamine, minerali, tutte le cose di cui abbiamo bisogno e che onestamente nella nutrizione che abbiamo al giorno d'oggi è difficile avere, no? E quindi, così facendo, io sono sicuro che la mia quantità minima di cose fondamentali l'ho tirata dentro. È sufficiente? Assolutamente no. Però intanto inizio col piede giusto, inizio con una cosa, è ormai diventata un'abitudine, vado giù, mi faccio lo shaker, me lo porto su e mi son bevuto i miei 200 ml di acqua. Altra cosa importante, bisogna bere tanti liquidi alla mattina, prima cosa perché li abbiamo persi durante la notte, e sono pronto ad allenarmi. Tipicamente poi aspetto circa 5-10 minuti prima di allenarmi e questi 5-10 minuti li spendo meditando. Mi servono quei minuti perché devo mandar giù l'Athletic Greens, se no sento l'acqua che va in giro finché faccio le varie cose, e allora li uso in maniera intelligente, li uso meditando. Quindi io uso un'app che si chiama Waking Up di Sam Harris, trovate il link qui sotto nella descrizione, oppure se ne volete una gratuita c'è Oak che ha fatto Kevin Rose, questa è totalmente gratuita, non costa niente, di nuovo vi metto il link qui sotto, ma non ci guadagno niente perché è tutto gratis. Quella di Waking Up, quella di Sam Harris, è fatta veramente molto bene e devo dire è quella che mi ha fatto capire il senso della meditazione, però oggettivamente ha un costo, credo tuttavia che ci sia un mese gratis o una settimana gratis. Se provate la parte gratuita vi consiglio il Longboarding Course, quindi quello che lui suggerisce di fare proprio all'inizio, perché lì veramente ci sono delle lezioni che io ho trovato estremamente interessanti, perché sostanzialmente rende la meditazione una cosa razionale, ok? E io se non ha senso le cose non le faccio. Lì mi ha spiegato perché, l'ho capito, mi ha convinto e quindi lo faccio. A questo punto sono le 6.10 circa e d'inverno chiaramente andare a correre non è possibile. Io nella cascina in cui vivo sono molto fortunato e ho una palestra dove c'è un tapiruland, che è tutto quello che mi serve, ok? Quindi che cosa faccio? Alterno due volte a settimana, il giorno dipende, una corsa a 10 km orari in zona 2, 9 e mezzo, 10, qui dipende da come ho dormito, certe volte 9 e mezzo, certe volte 10, ma l'obiettivo non sono i km orari, non è la distanza, non sono le calorie, ma la zona 2. L'obiettivo è che il mio cuore batta fra i 145 e i 152, battiti al minuto finché corro. E questo, devo dire, se poi per tentative ed errori uno ci arriva, nel mio caso è inclinazione 0 e velocità 9 e mezzo, 10 più o meno. Poi aggiusto, mi guardo l'Apple Watch, vedo quanto sto facendo e cerco di aggiustare in modo da avere una linea dritta più o meno intorno a 150 battiti al minuto dopo questa sessione di 45-50 minuti e questo per due volte a settimana. Un'altra volta a settimana io faccio zona 2 in un modo differente, prendo il tapirulan, lo inclino a 12 gradi e vado a 5 km orari. È una camminata, ma vi garantisco il cuore pompa, va a 150, lo tiene veramente flat, ok, per di nuovo 45-50 minuti. E così facendo io faccio la mia zona 2. Vi do un piccolo trick, se voi cominciate con questa camminata, i primi 10 minuti non siete in zona 2 perché effettivamente state camminando, il cuore va su piano 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 e quindi poi non mi fate questi 40 minuti di zona 2 che sono il vero obiettivo. Allora il mio consiglio è, primo minuto di corsa a 8, 9, 10 all'ora, in modo che il cuore comincia subito a pompare e poi vi spostate su 12% inclinazione, 5 km orari, 4 e 8, 5 km orari. Poi vedete voi, ripeto, l'obiettivo è che il vostro misuratore di battito cardiaco vi dica che siete nella vostra zona 2. Nel mio caso è 145-153, nel vostro caso dovete fare il calcolo perché ognuno ha la sua, in base all'età, al peso e a una serie di altri fattori. Benissimo. A questo punto abbiamo coperto tre delle sessioni di allenamento. Nelle altre due che cosa faccio? Allenamento in casa, in questa stanza, alle mie spalle, io ho tappezzato il pavimento di questa stanza con, diciamo, un tappeto di spugna e faccio una rotazione tra flessioni, nel modo classico, in più qualche variante, addominali, bicipiti, trazioni alla sbarra e poi vari esercizi con il TRX, con le fasce, poi magari farò un video dedicato a tutti gli esercizi che faccio, però anche qui statemi attenti perché quello che va bene a me magari non va bene a voi, quindi io condivido per stimolare, poi ciascuno provi e veda se è la cosa che fa per lui. Un'altra cosa che faccio in questa stanza è con una kettlebell, no? Da 20 chili faccio le swings e questo è un ottimo modo per fare un po' di cardio, no? Quella volta che non hai voglia di star su e allenarti per un'ora, sostanzialmente tu dici, tu vieni, fai un gruppo muscolare che può essere addominali, può essere gambe, può essere quello che vuoi e poi ci piazzi un 100-150 ripetizioni che idealmente dovrebbero essere consecutive, se non ce la fate mettetela giù per un minuto, tirate il fiato e poi rifatela di kettlebell swings con un peso che non deve essere per i maschi inferiore ai 16 chili e per le femmine inferiore ai 12 chili. Mediamente, ripeto, non sono medico, state attenti a non farvi male, è la cosa peggiore in assoluto se vi fate male piuttosto partite con un peso più basso e poi alzate quando vi sentite più confidenti. Così facendo fate 5-6 minuti di cardio spinto perché comunque 150 ripetizioni ci vogliono 3-4 minuti per farle ma poi il cuore continua a pompare per un altro minuto e a questo punto siete pronti per la vostra giornata. A me tutto quello che vi ho appena detto, quindi queste sono le varianti di allenamento che faccio dal lunedì al venerdì mi portano via tra mezz'ora e tre quarti d'ora quando rimango qui in casa e faccio questi esercizi quindi alle 7 ho finito, viceversa quando vado in palestra a fare il tapis roulant finisco alle 7-1 quarto perché mi serve il tempo per andare più i 45 minuti il tempo per tornare. Quindi fra le 7 e alle 7-1 quarto ho finito gli esercizi. A questo punto preparo la colazione e do una mano alle bambine perché ovviamente sono piccole quindi se non stai lì a spronarle queste si incantano guardando il muro però è un momento per me molto importante, è un momento a cui tengo, un momento di condivisione è un momento in cui cerco di caricarle per la giornata eccetera eccetera e nel frattempo utilizzo questo momento per smettere di sudare perché se vado a farmi la doccia adesso esco e dopo tre minuti sono di nuovo da lavare. Quindi di nuovo incastri fatti per ottimizzare. A questo punto arrivano circa le 7 e mezza, 7 e 45, mi bevo il mio integratore proteico che sostanzialmente mi serve perché se fai allenamento i muscoli, i muscoli per riformare le fibre che rompi facendo allenamenti hai bisogno di proteine e con la mia alimentazione normale non riesco ad arrivare a un grammo e mezzo, un grammo e 6, un grammo e 7 di proteine per chilo di peso corporeo. Io dovrei prenderne 130-140 al giorno. Se non prendo integratore proteico almeno una volta al giorno arrivo neanche vicino a 100 quindi fondamentale latte con integratore proteico. dopodiché vado a farmi la doccia, mi vesto e a questo punto prendo l'ultima cosa che prendo a casa che è il caffè. Il caffè che io prendo, monorigine tipicamente Colombia, Brasile insomma a me piace andare in cerca dei chicchi di caffè che macino io dopodiché me lo metto nella mia macchinetta. Il rito per me è una cosa fondamentale il fatto di farlo io, di essere io a macinarlo, di sentire l'odore del caffè appena macinato e l'odore del caffè e il sapore del caffè fatto così per me ha un valore incredibile quindi è un po' anche un altro esercizio di mindfulness che faccio e a questo punto sono pronto, zaino in spalla, prendo e esco e vado a lavorare. La mia morning routine però non finisce qui. In macchina, tipicamente mezz'ora, tre quarti d'ora, mi ascolto un podcast a questo punto arrivo in ufficio e sono tipicamente un po' prima delle 9, 9-5 circa a questo punto arrivo in ufficio ma la mia colazione non è finita, prendo uno yogurt della marca Brunec Milk Off perché io ragazzi se lo fanno nelle dolomiti lo prendo per definizione, buonissimo e adesso a parte gli scherzi ha dei valori nutrizionali molto buoni, pochissimi zuccheri, il giusto equilibrio di grassi e proteine, quindi è un'ottima marca sia perché lo fanno nelle dolomiti sia perché oggettivamente non ci mettono dentro schifezze, bianco. Ci metto dentro la granola homemade che faccio io su cui farò un video dedicato quindi iscrivetevi al canale, seguite perché la mia granola homemade è quella con meno zuccheri in assoluto che potete concepire, la faccio ed è buonissima, perlomeno io la trovo veramente buona e la mangio tutti i giorni ormai da credo 4-5 anni, tutte le mattine, 40-45 grammi, mangio questo, prendo un po' di creatina che è meglio non prendere a stomaco vuoto e conseguentemente lo yogurt serve a quello, poco, 2-3 grammi, che serve sia per la parte fisica che per la parte cognitiva e a questo punto prendo, sono le 9-10 circa, il secondo caffè e a questo punto sono pronto per la giornata. Comincio a smazzarmi le mail, comincio a guardare cosa è successo nel mondo, comincio a fare i miei incontri, riunioni one to one eccetera eccetera e questa è la morning routine. Chiudo con una cosa molto importante e poi parliamo del weekend, questa cosa è attenzione la morning routine inizia andando a letto 8 ore prima della sveglia, quindi io vado a letto tipicamente 9-9 e mezza e tra le 9 e mezza e le 10 perché a letto leggo un pochino, tra le 9 e mezza e le 10 dormo, conseguentemente riesco a dare al mio corpo il tempo per recuperare tutto quello che è successo nel giorno emotivo, mentale, psicologico, stress, fatica, quello che volete voi, malattie, quello che volete voi. Quindi attenzione la morning routine inizia andando a letto presto, la sera prima. Vi dicevo del weekend, nel weekend io anche d'inverno vado a correre fuori perché mi piace farlo anche se prendo freddo e non mi interessa, a questo punto aspetto perché evidentemente bisogna farlo le 9, le 10 quando c'è un po' di luce, però correre fuori secondo me è importante, è importante anche prendere un po' di aria fresca, laddove è possibile prendere anche un po' di luce, qua a Milano la luce naturale non sappiamo cosa sia più o meno da ottobre a marzo, aprile però magari voi vivete in un posto migliore, correre fuori secondo me fa bene, alternare anche la corsa su tapirulana, corsa fuori secondo me fa bene e questo lo faccio uno dei due giorni e poi l'altro giorno che tipicamente è domenica io faccio l'allenamento morte, l'allenamento VO2 max. VO2 max vuol dire che il cuore deve essere in zona 5, deve essere in zona 5 il che vuol dire pompare as fast as it can prima dell'infarto ovviamente mi raccomando allenatevi in maniera sicura. ci sono vari modi per fare la zona 5, io ne ho due, il primo è lo step, in questa palestra dove vado c'è lo step, l'ellittica diciamo, chiamiamola così, l'ellittica dove fate andare anche le braccia e lì l'esercizio è molto semplice, 4x4x4, 4 minuti al massimo della potenza e adesso vi spiego cosa vuol dire al massimo, 4 minuti al minimo barra camminando, quindi di riposo per quattro volte. In questa modalità siete certi di essere cadaveri alla fine della sessione, perlomeno poi voi magari siete più in forma di me, ma io veramente sono morto alla fine di questa sessione, a volte faccio anche fatica a completarla, devo interrompere durante uno e poi lo riprendo, i 4 minuti li faccio sempre, non sempre li faccio in maniera continuativa perché effettivamente al massimo della potenza è difficile ed è giusto che sia così. Questo allenamento serve per allenare il nostro corpo a ossigenare bene i muscoli ok? E a ossigenarsi bene e quindi quando noi facciamo questo allenamento stiamo allenando sostanzialmente la nostra resistenza, mentre invece la zona 2 ci serve per allenare il nostro cuore. La VO2max un altro modo per farla è mille metri, quindi un chilometro al massimo della vostra velocità e tipicamente anche lì viene fuori 4 minuti, non è un caso, 4 minuti di riposo e per quattro volte, quindi se vi piace correre correte, se vi piace l'ellittica fate l'ellittica, ma correre deve essere al massimo, motivo per cui io sconsiglio il tapirulan per due motivi, primo perché molti tapirulan arrivano a 16 all'ora che non è assolutamente il massimo, secondo molto peggio è che è rischioso, correre così veloci se mettete male un piede rischiate di cadere e farvi male, molto meglio farlo a questo punto in strada dove se sentite che la fatica sta avendo sopravvento mettete giù il piede un attimo con più calma, tirate il fiato, cosa che sul tapirulan è complesso fare, quindi mi raccomando allenatevi in sicurezza. Vi parlavo della potenza massima, allora la zona 5, quindi la VO2max, questa fascia di allenamento per diciamo l'ossigenazione, si ottiene in un modo molto semplice, raggiungendo una potenza sviluppata di 3 watt per chilo di peso corporeo. Se siete sopra quella soglia siete in zona 5, siete in VO2max, in allenamento VO2max. Come fare a misurarlo? Beh sull'ellittica per me è facile, ok, perché l'ellittica ti dice i watt che stai sviluppando perché stai correndo su praticamente una dinamo. A questo punto lì 80 kg, 79, per 3, 240, io devo rimanere sopra i 240 watt e a questo punto io quando prendo l'ellittica ogni tanto butto l'occhio e verifico di essere sempre sopra i 240 watt. Attenzione perché misurare i watt è fondamentale. Io vi dico se faccio 250, che è tipicamente quello che riesco a fare, faccio spesso fatica a finire l'allenamento. Se faccio 230 mi sento stanco quasi tanto quanto ma non faccio fatica a finire l'allenamento, lo finisco sempre. Ergo non ero in zona 5 e quindi non sto portando a casa quello che mi voglio portare a casa. La dico male, non è un allenamento buttato via per carità, meglio farlo che non farlo, ma non è quello che mi serve, non raggiunge quell'obiettivo. Quindi sembra che sia poca la differenza ma la differenza è tra essere in zona 5 e non esserlo e dobbiamo esserlo perché l'allenamento ha senso così. Quando dico 4 per 4 per 4 è uno dei metodi, il minimo sindacale è 3. Se non fate 3 minuti in zona 5 non serve, devono essere almeno 3 e poi magari lo fate una volta in più se fate 3 minuti. Cercate però di arrivare a 4 almeno perché sembra, insomma molti studi dicono essere un po' lo sweet spot. Poi se fate 5 è meglio, se fate 6 è meglio, di più ancora è molto difficile, dovete essere un atleta molto in forma. Però 4 è meglio, cioè 3 è proprio la soglia minima. 4 sembra essere quel punto ottimale. Io cerco di arrivare lì, tipicamente che cosa faccio? Imposto l'ellittica su 5 minuti, faccio il primo minuto un pochino di warm up e quando arriva il secondo 56-57 sparo sulla resistenza che prima nel riscaldamento era 4-5, adesso la sparo a 10 quindi è super dura e comincio a pompare anche con le braccia senza guardare in faccia nessuno cercando di arrivare alla fine dei a questo punto 5 minuti. Questi sono gli allenamenti che faccio io durante l'inverno, molto indoor, 1-2 outdoor a settimana nei weekend se riesco, molto importante, nutrizione spaziata, molto importante, integrazione, molto importante perché sostiene questo effort. Senza le G1, senza le proteine, senza la creatina si vive serenamente, ma se fate tutto questo allenamento, tutta questa attività fisica servono nutrienti per il vostro corpo, per massimizzare il ritorno dell'investimento che fate con la fatica e quindi queste cose aiutano. Io non sono un medico, non ho affiliazione con nessuna marca, vi indico qua sotto quello che prendo io, ma veramente fate voi. Se dovete ingerire qualcosa, se dovete cambiare il vostro allenamento, la vostra routine, se avete condizioni mediche, prima di fare qualsiasi cosa interpellate un medico, meglio ancora se un medico competente, mi raccomando, adesso non voglio parlare male di medici di base, ma dovete prendere medici che lavorano anche in logica preventiva, non solo ti sei fatto male oppure ti guardano e ti dicono che stai bene, ma gente che va a fondo delle cose per avere un piano che riuscite a sostenere. Non cominciate a mille perché sennò smettete il giorno dopo, cominciate piano, ma cominciate perché cominciare è la cosa più importante e dopo di che ogni giorno aggiungete un pezzettino. Spero che questo video vi sia stato utile, ci vediamo al prossimo video, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mi raccomando allenatevi in maniera sicura. Ciao ciao!